buongiorno dopo mille peripezie ieri sera e dopo aver passato la notte oggi siamo diretti ad Agdez ci aspetta il mercato dei datteri la squadra che riuscirà a comprare un chilo di datteri a minor prezzo e la massima qualità oggi si aggiudicherà il punto la notte la passeremo in terra